I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat Bella ragazzi, qui Raptor Oggi sono qui con un super gameplay Che sarebbe il 102.10 Che mi avete proposto voi da mettere sul canale Non c'è Dad Perché da quanto ho saputo Mi ha detto che era malato Però a commentare c'è un'altra persona Un po' si può dire un po' meno froccio di lui Però dai, presentati Sono sempre così Allora, ciao a tutti ragazzi Sono in Diva95 Sono un commentatore amico di Raptor E sono qui oggi a dargli una mano Un po' a sostituire Dad Ha preso il primo stronzo che gli è capitato sotto mano Speriamo che sto giro va bene Poi ragazzi Vi diremo il perché sta dicendo questa cosa Perché è la terza o quarta volta Che gli facciamo partire il video Perché mentre io gli dico di fare partire il commento Io non faccio partire la registrazione Quindi L'intelligenza sovraumana Un pinosauro Allora vai a fanculo Allora ragazzi Questo oltre a dirvi Come si dice A mostrarvi Queste prodezze Vabbè che in questa partita qua C'eri pure te se non mi sbaglio Esatto Infatti mi ricordo che c'era anch'io Infatti tipo Mi ricordo che a metà partita mi aveva detto Guarda lo stronzo che adesso le supera le 5 kill Sì sì infatti No le 5 Le 100 Le 100 Le 100 Che falle No vabbè raga Questa Volevo informarmi in questo video A voi Che tipo dal 20 febbraio Sì dal 20 febbraio Io inizierò a fare lo stage per la scuola Per chi non sa che cos'è Magari te lo sai già che cos'è Sì certo che lo so Guarda che non sono il primo pirla che passa per strada No te lo sei Molto anche Abbastanza Ma cosa che vai? Ti fan tagliare gli alberi? Sì me li fan tagliare Dopo Mi mettono in quella fabbrica dove fanno la carta Mi mettono col millimetro E praticamente mi fanno fare i fogli Più ne faccio più mi pagano No scherzo dai Basta cazzate Basta cazzate Allora È lo stage ragazzi che incomincio per la scuola Che fa dal 20 febbraio fino a metà maggio Che Non è assolutamente un problema diciamo per me Più che altro Non so neanche Se è per voi Perché Vi spiego Allora si fa Naturalmente io faccio officina per chi non lo sa Officina d'auto Meccanica Quindi Imparerò un po' diciamo sul lavoro Da persone in zona che ci sono Che diciamo praticano meccanica d'auto Se non gliene fotte Voglio vedere la partita Allora Non mi rompere i coglioni Praticamente ragazzi Si fa dalle 8 Fino a mezzogiorno E poi Dalle 2 Fino alle 5 Quindi Si fa dal lunedì al giovedì E quei periodi lì Molto probabilmente Video non riuscirò a postarne O almeno che me ne preparo un po' Perché Potete capire anche voi che Sarò un po' impegnato in quel periodo lì Poi non è tipo come gli stage Che si fanno per Due settimane Poi basta Quello è uno stage di tre mesi Quindi Vabbè Poi Adesso ve lo dico Poi magari riuscirò ad aggiustarmi ugualmente Almeno spero Poi naturalmente Ci sta lui con la connessione a 20 mega Che se non riesco a mettere Un outpunt Ovvio Me li mette lui 5 minuti fa tutto Me li metto io 5 minuti E gli metto su un video di 40 minuti Dove c'è lui Che praticamente fa un porno Con dad De Belen Allora Di gente Aspetta Qua volevo dire intanto Non so se vuoi dire una reazione pure te Ho fatto una multipla da 4 10-130 Ecco Il solito Merda Che fa lui Ma sicuramente c'è Lo ti avrò già insultato in partita In live Sicuramente Guarda Io mi sa che Non ti sentivo più di tanto Perché Alzo sempre il volume al massimo Sulla televisione però Cioè I vicini che bestemmiano Eeeh Il mio volume E basta lo cretino No più che vicini Diciamo Quelli del piano di sopra Ecco Saltano poi i piedi Per fare casino Intanto volevo dirti che Non so Vuoi dire La mia prodezza Commentarla Diciamo Per usare il reaper Lui Allora Prendete lui Con questo merda di reaper Che è una ricompensa da 8 uccisioni O quel cazzo che è 9 9 Prende e ci fa sulle quadruple Le multiple Bambini sui tetti Non si capisce più un cazzo Quando prende il reaper E quindi Niente Stai proprio sui coglioni I bambini sui tetti Li lasci stare Perché sono dei piccoli Spazzacamini neri nani Quindi li lasci stare Perché mi fai girare già il cazzo Dopo questa cazzata Dinosauro di merda Ok Niente Oltre ad un'altra cosa Volevo dirvi che Se per caso Mettete che Poi ne parlerò anche con lui Se Purtroppo Visto che sapete Anche voi Che dad Può venire solo una volta A settimana Che sarebbe la domenica Se non può venire di domenica Il giorno che dovrei fare Il ruo a dio Magari ci metto lui Al posto suo Su Skype In live Mentre io gioco Sono qua C'è un cazzo Ah c'hai un cazzo? Io ho due ne ho Prendi i cappelli di medusa Minchia così? Sì No vabbè raga Comunque Ve l'ho detto Se per caso Magari Vedendo da questo commentary Non so se vi piace Potreste dirmi se Fagli fare dei live Di RTC Naturalmente non vedrà la partita Perché è su Skype Però C'è Che problema c'è Che è appunto Che problema c'è Così bravo A improvvisare Poi non so Adesso passiamo un po' Alle sponsorizzazioni Sul tuo canale Se te C'hai qualcosa da dire Che fai sul tuo canale Tipo la mobile La lasciavo stare Perché C'è solo una cosa da dire Sì cazzo Sì Allora niente ragazzi Io sono un commentatore Come tutti C'è appunto Un po' più sulla simpatia Forse ma comunque Mi diverto anche a fare Commentari tecnici Dove vi spiego Qualche consiglio E niente Carico qualche video A settimana Esatto Sono una testa di cazzo Però se volete passare Visto che sono anche Più forte di Raptor Così mi vanto Un po' sul suo canale Faccio le mobile live E lui non le sa fare Non è che non le so fare Non le ho mai fatte Ecco E non le farà mai E quindi se volete Passare sul mio canale Iscrivetevi Che magari Ci facciamo due risate Allora Aspetta che mi stanno Chiamando su Skype Iniziano già a rompere i coglioni Olè È la festa Ok Ok Intanto qua Diciamo che siamo Ah Una cosa che dico Prima che mi insultano Ho fatto 102 kill In sta partita Però la partita La perdiamo Quindi insultatemi Anzi soprattutto Insultate Andy Boy E gli altri che c'erano In partita Perché Io puntavo le kill Però loro raga Potevano fare qualcosa Per aiutare Ovvio Noi guarda che Siamo lì apposta per te Io adesso Dico sta cosa Già subito Allora Mi stanno bombardando Di messaggi su Skype Se per caso Mi viene la failata Di accettare Un'altra chiamata E salta sto commento Non lo rifaccio più Perché è già la quarta volta Che si rifà Esatto Ok Non so Vuoi dire tipo Le armi secondarie Che usavo Lasciale stare Perché penso Che sai già Che cosa uso Non sono le MP9 Anzi Puoi già capire Che cosa stavo usando La merda In culo No La schifezza Della FM9 Quella roba lì Sono così Nabbo Ragazzi Dovete sapere Questa cosa Perché è importante Nabbo Sei una merda Sono così Nabbo Che ho intenzione Di fare Le 2500 kill Con le GFM9 Attenzione Con questa voce Soft porn Raptor ci annuncia Di questa minchiata Che vuole fare Aspetta Fare un road To 2500 kill Con le FMG9 No non voglio fare un road Voglio proprio farle Dopo mostrare il titolo Nei gameplay Perché mi sento figo Con quel titolo lì Mi sento figo Che si rovina la community Merda Volevo dirvi anche Un'altra cosa ragazzi Che mi è venuta in mente In questo preciso momento qua Che mi è arrivato oggi Per post raccomandata Che dovete sapere Che poi vi spiegherò Anche una bella storiellina Che mi ha raccontato Dad sulla post raccomandata Che è capitato a lui Comunque Mi è arrivato Un gioco Che sarebbe Sky Sapete anche voi Che cos'è Spero almeno Io volevo provarlo Ho spagato 40 euro Più spesi di spedizione 30 euro No scherzo 40 più 5 Vabbè 45 euro E Non so Prima cosa Ti è insegnarmi A giocare un po' Quel gioco Perché a me piace Vedere come è fatto Qual è il ruolo Però non sono capace A giocare Quindi Niente Tu sei un Pipino Un pipino Tipo puoi scegliere L'orco Che devo dire Che è una bella persona E Niente Vai in giro Ammazzi draghi Ammazzi gli orchi Come te Allora E niente Cosa dire È un bel gioco Devo dire Sì sì Ne vale Cosa dici Ne vale la pena Per spendere Vabbè Io l'ho pagato 40 euro Su Ebema Sì io invece L'ho scaricato Piratamente Sul computer Ci ho fatto anche Un gameplay E devo dire Che è un bel gioco Un bel gioco No ma tu cosa dici Ne vale la pena Spendere 70 euro Per un gioco così Se c'era Se c'era Dad Diceva No quei figli di puttana Del GameStop Non si deve dare Neanche 5 euro Dandogli ruba i giochi Non ho capito Porca troia Mi stanno chiamando di nuovo Ma insultali Testa di minchie No no basta Adesso vediamo Quanti punti stiamo Nella partita Perché raga Oltre a parlarvi Dello stage Altre cose da dirvi In questo video Non è che me ne sono Preparate tante Anche perché Me ne ero parate Parate Faccio le parate io Lui è un portiere Me ne ero preparate I giorni scorsi Altre certe cose Poi ho perso Il foglio Adesso c'avevo solo in mente Sta cosa per lo stage Non penso che si può parlare Di sta cosa Di 11 minuti Se no mi manderete A fanculo Quindi Esatto esatto Ma gli vogliamo dire Che forse commentiamo Anche un'altra partita Insieme Ah si si La mia MOAB Si però non 11 minuti Perché già mi sono cagato Il cazzo Se dura 8 minuti Il video E se vogliamo Lo tagliamo via Un minuto E' fatto Aspetta che Ah si ecco Raga Ho fatto un Mi si chiama Una MOAB Strike d'assalto Senza volerlo Perché usavo la CR Se no se avrei voluto Prenderne una Per metterla sul canale Avrei usato un'arma Più scrausa Però Se la volete vedere Che è un'uccisione confermata Su Bottle Scrivetelo Che magari se non ci sarà Dade la farò di nuovo Con lui E stavolta mi insulterà La grande Perché non crepo Lui è immortale Attenzione La partita è finita 160 a 200 per loro Quindi 40 punti Me li devi te Pure persi Se volete Diciamo Lasciare un commento Un mi piace E naturalmente Iscrivervi al canale Di Andy Fate pure Io vi saluto Bella raga Ciao ciao